Vieni, vieni, vieni! Non ciò che non si può fare. Erika! Non ciò che non si può fare. Non, non. Non è normale, non è normale. Non è normale frutti. Non è normale frutti. Non è sempre così. Non è proprio qui, non è proprio qui. Ciò che voglio dire. Erika! Erika! Ah, è l'insetto.